Salve a tutti lettori, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono sempre Federica e oggi voglio mostrarvi i primi libri che vorrei leggere per il 2022, quindi voglio mostrarvi i libri che vorrei leggere a gennaio. Prima di iniziare però come sempre vi chiedo di supportare il canale, iscrivetevi se vi fa piacere, attivate la campanella per non perdervi i nuovi video e mettete sempre sempre like a fiducia ai contenuti che vi propongo così mi potrete dare una mano qui su youtube. Da un po' di tempo a questa parte ho deciso di non stilare più delle tbr perché non riuscivo mai a seguirle e mi mettevano un bel po' d'ansia quindi ho deciso di darmi sommariamente degli obiettivi di lettura che fossero per tutto l'anno così ho fatto nel 2021 e così farò nel 2022 però non ho ancora deciso quali possano essere i miei obiettivi di lettura per quest'anno. però anche se ho deciso di non stilare più delle tbr mensili o annuali ho deciso per il 2022 di portare avanti due progetti di lettura uno che è proprio mio personale è un altro che ho condiviso con un'altra bookstagrammer e quindi comunque devo darmi una sorta di regola di lettura per poter portare avanti la scaletta di entrambi i progetti. In qualche video fa vi ho parlato di un progetto che si chiama strani mondi che è un progetto di fantascienza attraverso il quale io e Marina l'altra bookstagrammer che si occupa insieme a me appunto di strani mondi cerchiamo di diffondere il più possibile la fantascienza su instagram e su youtube perché pensiamo che sia un genere un po troppo bistrattato. Dal 15 dicembre al 15 gennaio per questo progetto leggeremo questo libro qua ovvero lingua nativa che è straordinario. Io già l'ho terminato perché non riuscivo a staccarmene quindi primo task per questo progetto evaso. Lo tengo ancora sul comodino perché non ve ne ho parlato ancora bene e anche perché nei pressi del 15 gennaio faremo una live proprio su questo libro. Adesso non sappiamo ancora se sarà una live su youtube o una diretta su instagram e quindi ci stiamo ancora organizzando. Sempre per quanto riguarda il progetto di lettura strani mondi quindi il progetto di lettura di fantascienza dal 15 gennaio al 15 febbraio leggeremo questa meraviglia qua Clara e il sole libro super mega chiacchierato piaciuto a tantissimi blogger che si occupano di libri e infatti io non vedo l'ora di leggerlo anche perché Clara è un androide e quando si parla di fantascienza si parla spesso di androidi che è una delle mie tematiche preferite quindi non vedo l'ora di leggerlo. A partire dal 15 gennaio comincerò a leggere questa bellezza qui sperando di essere in ordine con le altre letture che mi aspettano per il prossimo mese. Fatemi sapere già nei commenti se lo avete letto e se vi è piaciuto. Il prossimo libro che leggerò a gennaio appartiene al mio progetto personale che si chiama gotico suddista. Brevemente mi occuperò grazie a questo progetto della letteratura southern gothic che è un sottogenere della letteratura americana. I libri che appartengono al genere gotico suddista sono ambientati nel profondo sud degli Stati Uniti dove razzismo e religione sono ancora imperanti e nella maggior parte delle volte questi romanzi sono ambientati in piccole cittadine di provincia comunità montane comunità molto ristrette che apparentemente sono comunità perfette ma che poi nascondono dei veri segreti e dei veri orrori. Il primo libro che ho scelto di leggere per questo mio personalissimo progetto è questo qua Figlio di Dio di Cormac McCarthy e secondo me non potevo partire con il libro migliore. Lo inizierò a leggere praticamente oggi pomeriggio. Di McCarthy io ho già letto La strada e Meridiano di Sangue che sono due dei miei libri preferiti in assoluto perché sono punti di riferimento di due dei miei generi preferiti ovvero quello distopico e quello western e quindi mi aspetto tantissimo da Figlio di Dio. È breve e la lettura condivisa di Figlio di Dio terminerà a fine gennaio perché ho deciso appunto per questo progetto di leggere banalmente un libro al mese. Il primo libro è proprio questo qua speriamo che vada tutto bene e speriamo che questo progetto mi dia tante tante soddisfazioni. Altro libro che leggerò a gennaio è questo qua Cavalli Elettrici che è il libro che è stato scelto dal gruppo di lettura della biblioteca Centro Studi Americani di Roma. Mi hanno contattato e mi hanno chiesto se volessi fare da tra virgolette madrina per il mese di gennaio e leggere insieme a loro Cavalli Elettrici. Ovviamente io ho detto di sì perché già l'avevo visto in giro per Instagram e già mi aveva attirato tantissimo. Ho corto la palla in balzo e quindi a gennaio leggerò anche questo bel libricino qui che è di 400 pagine circa però considerato che McCarthy è piccolino eppure Clara il sole è piccino ce la dovrei fare abbondantemente però incrociamo sempre le dita. Altro libro che ho sul comodino di gennaio non è un libro ma è un graphic novel è questa bellezza qui che mi è arrivata per Natale anche se non avevo chiesto libri per Natale sono stata comunque molto molto felice di ricevere il graphic novel di Dune è il primo volume cerco magari di mostrarvi qualche illustrazione se riesco ecco qua sono fatte molto molto bene mi piacciono davvero tanto questo è il primo volume penso ovviamente ne usciranno altri considerando la mole di Dune ho visto il film e mi è piaciuto da morire bellissimo uno dei film più belli che abbia visto l'anno scorso vorrei leggere la saga ma di ci vorrà un bel po di tempo però è un obiettivo che mi vorrei prefissare e per ora mi accontento tra virgolette di leggere questa bellezza qua. Bene lettori vi ho mostrato molto velocemente quali sono le mie intenzioni di lettura per il mese di gennaio per il primo mese del 2022 speriamo che sia un mese ricco di belle letture e che sia il preludio di un anno ricco di letture fantastiche fatemi sapere giù nei commenti se avete letto qualcuno dei libri che vi ho mostrato se vi piacciono i progetti di lettura di cui vi ho parlato e fatemi sapere quali sono le vostre prossime letture ma soprattutto se fate o non fate le TBR mensili. Bene lettori il video termina qui grazie per essere stati in mia compagnia vi lascio un grande bacio al prossimo video ciao ciao